Ciao, ti do il benvenuto al consueto appuntamento del sabato con l'aggiornamento sulla criptovaluta Bitcoin. Settimana scorsa il crypto ha perfettamente seguito quella che era la previsione CIC e adesso ci troviamo su un livello molto importante, in una situazione molto importante. Dopo la sigla del canale, mi raccomando di non andare via, andremo a capire quando dovremo cercare nel momento delle operazioni ribassiste e quando dovremo cercare invece di rimanere fermi oppure per i più amanti del rischio cercare delle piccole operazioni già di conto trend. Il tutto tra pochi secondi, mi raccomando di non andare via. Se per la prima volta stai visitando il mio canale ti do il benvenuto, io sono Paolo Pisino, sono un trader dal 2007 e da 8 anni la svolgo come unica attività. Mi puoi trovare sul sito tradingpertutti.com dove ho sostanzialmente riversato tutta la mia esperienza. Il mio cuore dell'attività è l'analisi ciclica, io sono un analista ciclico, sono uno dei più esperti in Italia dell'analisi ciclica e indubbiamente il più esperto per quanto riguarda il metodo originario di Hearst da cui chiaramente ho derivato la mia e personale analisi ciclica più adattata a quelli che sono i mercati di oggi rispetto al mercato di 50 anni fa, anzi di quasi 60 anni fa. Ti invito a registrarti al canale Telegram gratuito, partecipare quindi alla mia community, ricevere ogni giorno due analisi cicliche multi-day completamente gratuite, due barra travolta alla settimana analisi intraday e comunicare con gli altri iscritti al canale Telegram gratuito. È una community molto attiva, ci sono tante discussioni sia da un punto di vista macroeconomico che da un punto di vista tecnico, quindi grafici, non per forza con un'analisi presa da quella che è la mia formazione di trading. Se sei invece da ricerca di un corso per imparare a lavorare con l'analisi ciclica ti invito ovviamente a cliccare sul corso e informarti, 40 ore di formazione, incluso un anno di licenza con l'indicatore HC Evolution, quindi un indicatore che mi ha accompagnato per tantissimi anni, ma ti invito anche a visualizzare e prendere visione dell'ultimo nato, l'indicatore Volta, che è quello che utilizzo adesso per le mie analisi, che completamente in maniera automatica riesce a fare l'analisi nel passato, estrapolare la durata media dei cicli, proiettare una sinusoide perfetta nel futuro che ti indicherà quelle che saranno i movimenti da parte del mercato, anche individuando di rottura le zone di lateralità. Se stai cercando dei segnali invece intraday, in questo caso sugli indici, questi sono i risultati, ovviamente troverai tutto qua su segnali intraday, questi sono i risultati, l'anno sta andando molto bene con 1.234 punti sul Nasdaq, 180 sul DAX, un singolo trade sul Dow Jones con 35 punti, marzo così così, al momento da Nasdaq 86 punti, DAX meno 115 punti, abbiamo un'operazione in questo momento aperta sul DAX in multiday, aperta ieri venerdì, vedremo, vedrò se domani sera già chiuderla, perché ho visto che lunedì c'è una riunione straordinaria della Fed per via del fallimento della banca SWB negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, e non vorrei mai che si inventassero qualche porcata, cercando di rimediare a quasi 20 anni di errori, con un errore pari ma di portata più grande, e che quindi mi portino i mercati a esplodere al rialzo, meglio incassarsi gli short, e va bene così. Ma veniamo al nostro Bitcoin, quanto ci ho messo a fare una preview? Circa 3 minuti e ci può stare. Allora, Bitcoin, partiamo prima da che cicli stiamo analizzando. Allora, i cicli che tu vedi qua rappresentati sul grafico, quindi dalla sinusoide rosa, che appunto va nel passato come indicatore, va a cercare la durata media di tutti questi cicli, la estrapola, quindi ne va a creare una durata reale media con una varianza del 50%, mi restituisce un valore, questo valore lo va a proiettare nel futuro, creando ovviamente quello che sarà il probabile movimento da parte del mercato. Non in termini di estensione, o quella che da un punto di vista nominativo tecnico si chiama ampiezza di movimento del mercato, ma da un punto di vista del tempo. Perché l'ampiezza, ahimè, con i mercati moderni, non è più un rapporto come era una volta, uno a due. all'ampiezza, sostanzialmente non si può prevedere, non possiamo sapere dove arriverà il mercato, possiamo sapere quando è arrivato in un certo livello, quel livello assume importanza, perché è arrivato sul massimo, sul minimo ciclo. Però ovviamente ci sono dei metodi che utilizzo per identificare i livelli di target, e poi chiaramente sono quelli che utilizzo abitualmente, e che possiamo andare a vedere insieme. Allora, quindi in questo caso analizziamo cicli da 18 mesi, 40 settimane, 20 settimane, 80 giorni, 40 giorni, 20 giorni. E' importante vedere questa situazione qua, vado a levare un attimo tutti i cicli. Abbiamo il 18 mesi, che lo vediamo, è in una fase di spinta rialzista, ok? Però abbiamo le 40 settimane, che è evidente essere ancora in una spinta di ribasso. Se noi andiamo a fare una somma, anzi andiamo a metterci così, andiamo a fare una somma, abbiamo 18 mesi, 40 settimane, uno è long, l'altro short, che insomma fa 0, 1-1 fa 0, quindi abbiamo una spinta al momento che è nulla. Però diventa più interessante se andiamo a prendere un 20 settimane, lo vediamo che è nella sua fase di ribasso. Stessa cosa per quanto riguarda un ciclo 80 giorni, lo vado anche a piscare di qua, ciclo 80 giorni nella sua fase di ribasso. Ciclo da 40 giorni, lui è arrivato invece nella sua fase, lo vediamo già di rialzo, ok? E ciclo invece da 20 giorni, che è una fase di ribasso. Se facciamo una somma, abbiamo praticamente un risultato che è sostanzialmente neutrale. Che cosa vuol dire neutrale? Vi ricordate? Abbiamo 18, adesso li mettiamo tutti insieme. 18 mesi rialzista. Con i 40 settimane invece è evidente che la situazione via una componente di ribasso, però siamo arrivati su il minimo, quindi il minimo ci dice che il mercato dovrebbe salire. Lavorando soltanto due cicli, il mercato in questo caso sarebbe long. Ma se andiamo ad aggiungere anche un 20 settimane, siamo ancora invece in una fase di ribasso, con un minimo che è previsto più o meno qua, intorno al 20 di marzo. Andando ad aggiungere anche il ciclo 80 giorni, ovviamente ci riporta la condizione ribassista con un minimo previsto intorno al 4 di aprile, ma se andiamo ad aggiungere anche un 40 giorni, abbiamo la conferma che siamo invece arrivati su una fase di minimo. Però come puoi vedere, l'analisi ciclica, che è qualcosa di unico nel suo genere, nel prevedere del mercato, andando a mettere insieme tutte le onde cicliche, a partire dalle più grandi alle più piccole, dalle più piccole alle più grandi, vi dirle come vuoi, ci va a disegnare quello che sarà il problema del movimento. È evidente che ci sia ancora una componente ribassista, un minimo ribassista di un ciclo importante, che appunto è quello da 80 giorni previsto intorno all'11 di aprile. Quindi che cosa ci dovremmo aspettare in questo caso dal mercato? Dovremmo aspettarci una fase di storno, ok, per poi andare a chiudere appunto il ciclo da 80 giorni. Andando a mettere anche il minimo del ciclo da 20 giorni, ok, io sono sistemato che era andato giù tutto il grafico, non riuscivo a più vedere niente. Andando a inserire anche il ciclo da 20 giorni, riusciamo a vedere una cosa, direi che anche se non conosce l'analisi ciclo, che è abbastanza semplice da capire, qui ci dovrebbe aspettare una sorta di lateralità. Vado solo a mettere il grafico che si veda un po' più ampio, perché sembrava piatto, perché abbiamo questa condizione che sembra essere lateralità? Perché non c'è una sincronia tra i cicli. Una delle caratteristiche che a me non è mai piaciuta dell'analisi ciclica è quella della comunanza, vuol dire che tutti i cicli più piccoli andranno a partire sempre dove abbiamo anche la ripartenza dei cicli più grandi e quindi andranno ad aggiornarsi. Quindi teoricamente la teoria dice questo, qui abbiamo i più piccoli che dovranno fare così. A me questo è un concetto che non è mai piaciuto perché vuol dire forzare tutti i minimi. Questo vuol dire forzarlo, perché qua ci sarà un ciclo anche più grande, ok? Vuol dire andare a forzare per forza che qua e quindi poi qua e quindi qua andranno sempre a partire i cicli più piccoli rispetto ai superiori. Io invece è una regola che non trovo corretta e alcune cose si possono un po' personalizzare da un punto di vista ciclo e quindi preferisco attribuire una sincronia vera, ossia i mercati si vanno a sincronizzare, sì, sempre no. In questo caso non ho sincronia da parte dei cicli più grandi, soprattutto non c'è una sincronia per quanto riguarda i cicli da 20 giorni e 40 giorni, infatti il mercato lo vediamo a me segnala una lateralità. Diventerà sicuramente più interessante questo livello perché avendo una fase ribassista, la vediamo più pronunciata, vuol dire che qui avremo più cicli dal stesso lato che saranno in questo caso il 20 giorni, il 40 giorni e l'80 giorni. Quindi che cosa dovremmo aspettarci per parlare diciamo in maniera un po' più semplice? Dopo tutte le previsioni corrette, quindi la rottura della trendline, il mercato che vede che qua comunque non è andato giù diretto, ha ritracciato, poi ha ripartito al ribasso, ovvio il massimo, teniamo sempre che una data prevista per un ribasso è una data che va presa sempre con un po' di tollerante, è impensabile che sempre il giorno preciso, identico il mercato reagisca. Qualche giorno di differenza ce la dobbiamo dare. Ovviamente qua non saremmo mai entrati al rialzo, avendo un picco previsto per il 10 di marzo, essendo qua all'8 di marzo, naturalmente un long non si sarebbe preso, probabilmente l'hanno preso tutti i criptomani che gridano ancora 100.000 entro agosto, 100.000 entro dicembre, che tradano long ogni singolo ritracciamento. Chi segue l'analisi ciclo ovviamente non ha fatto questo. In questo caso il ciclo dominante è un ciclo però lo vediamo a 40 giorni, perché il fatto che si sia il mercato abbassato direttamente seguendo il minimo del ciclo a 40 giorni è evidente che ci sta dicendo che è stata la componente che più ha dominato il mercato, quindi ci potremmo aspettare un ritracciamento, sì, intorno al 28 di marzo. I due livelli sicuramente interessanti saranno il primo alla media mobile ciclica, questa è la media mobile del ciclo, vedi che sarà da 70 perché è attualmente la durata media di un ciclo a 70 giorni che vedi qua, di un ciclo a 80 giorni che da 70. Oppure perché no andare anche a rivedere il livello di 21.447 per poi ripartire al ribasso e cercare sostanzialmente il prossimo livello di target importante che sarà 18.236 senza però ignorare questa componente che è molto importante, che è stata tutta quest'area di lateralità, quindi questo grande rettangolo, è un'area ad alto volume che per combinazione, direi di no, lo vediamo, ha avuto come suo sostanzialmente epicentro volumetrico, poi è partita tutta storta la linea, vabbè, tutta quest'area. Infatti il mercato è andato più o meno a fermarsi sulla metà. Quando troverai in qualsiasi grafico un'area fatta così, anche senza utilizzare volume profile, saprai sempre, avrai sempre la conferma che questa sarà un'area ad alto volume e se è perfettamente rettangolare come in questo caso, è molto probabile che la parte di mezzo sia la zona che si chiama del POC, con il punto di controllo volumetrico, sia la zona in cui il mercato ha scambiato più volte e quindi ha messo più volume. Infatti se guardiamo, si è andato a fermare praticamente a metà di S. Ovviamente la sua successiva rottura, in questo caso di questo livello, nel passato, andrà a creare una conferma di ribasso che ci vedrà come target appunto di 18.236, ma come sempre proviamo anche a determinare un target generato da un ciclo da 40 giorni. In questo caso lo vediamo, abbiamo tra un massimo e un minimo è il ciclo da 40 giorni, quindi qui abbiamo un ciclo da 40 giorni e la sua estensione è stata questa qua, da un punto di vista ampiezza. Proviamo a farci un'idea di quello che potrebbe essere il target del prossimo ciclo da 40 giorni qualora al mercato chiaramente arrivi e ritorni qua. Però io farai anche questa cosa. Vedi che non si è allontanato molto da quello che è stato il movimento di quest'ultimo ciclo. Bitcoin è un po' un casino da usare perché non è regolare. Può avere un'estensione di 50 dollari come di 20 perché è un mercato veramente assurdo. Però nel recente passato, essendo sugli stessi livelli di prezzo, la possiamo prendere in considerazione. Quindi un'area di target era 18.739 che probabilmente potremmo andare a questo punto a raggiungere con la chiusura del prossimo ciclo da 40 giorni. Quindi mi piace come possibile idea di livello di supporto su Bitcoin. Come puoi vedere anche questo ciclo da 40 giorni ha avuto più o meno la stessa durata di questo qua. Ok, infatti vedi che l'ampiezza è più o meno la stessa e quindi ci potremmo aspettare la stessa cosa. Ovviamente non ho idea di quello che sarà il ritracciamento del mercato. Quando avremo un ritracciamento, se sarà sempre nell'ordine di quelli precedenti, quindi non con un movimento disumano, potremmo andare anche a identificare un successivo livello di target che in questo caso dovesse il mercato andare a ritracciare indicativamente l'area di 21.447 potrebbe, lo vediamo, portarci più o meno su questo livello, i livelli di 15.491. Con questo direi che è tutto. È durata troppo questa analisi. Ti do appuntamento al prossimo aggiornamento con il Bitcoin. Ti chiedo di iscriverti al canale, cliccare sulla campanella e mi raccomando mettermi un like. A te è gratis. Queste analisi ti fanno guadagnare soldi. Se sei iscritto tra l'altro nel mio canale Telegram avrai letto anche i messaggi di una iscritta entusiasta delle menazioni del Bitcoin ma a me aiuta a crescere ovviamente come algoritmo su YouTube. Con questo è tutto. Ti auguro un buon weekend e ci vediamo alla prossima analisi. Ciao ciao.